buongiorno da obiettivo news oggi 16 gennaio e san marcello primo il 16 gennaio è il world snow day la giornata mondiale della neve istituita per avvicinare giovani agli sport invernali a contatto con l'ambiente e per accendere riflettori su quanto sia importante la neve per l'ecosistema occasione per i partiti dello sci e della natura per sperimentare ciaspolate escursione d'alta quota discese sulle piste e tutte le esperienze total white che il manto bianco promette con un pizzico di magia oggi anche la giornata nazionale della pasta e fagioli e la giornata internazionale del fig newton biscotto ripieno di pasta di fichi secchi e del cibo piccante o speziato tra i nati di oggi ricordiamo vittorio alfieri 1749 figura in primo piano dell'illuminismo kate moss 1974 modella e tra i scomparsi ricordiamo arturo toscanini 1957 genio della musica e gina lolo brigida 2023 icona di fascina e bellezza del cinema italiano nel ventennio 50 60